Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 ottobre, vediamo quali sono i dati fondamentali di questa giornata. Ovviamente il titolo di tutti quanti i giornali è sulla manovra che c'è, fino a ieri non c'era, oggi c'è, perché ieri notte hanno depositato la nota di aggiornamento del documento economico e finanziario, l'acronimo è NADEF, come qualcuno scrive, dovrebbero essere all'incirca 177 pagine, alcune ne ho viste, non tutte ovviamente stanotte, ma i giornali oggi ne fanno la sintesi forse principale, anche se nei dettagli del NADEF si dovrà trovare le cose forse più interessanti per capire come ragiona questo governo e quanta parte della burocrazia, come qualcuno vorrebbe dire maliziosamente, c'è ancora, visto che il NADEF ovviamente non lo scrive materialmente né Di Maio né Salvini, ma sono i tecnici che lo fanno da 10 anni a questa parte, loro non saprebbero neanche come aprire il file, come tutti noi, di un documento così complesso. Andiamo al sodo, ci sono, secondo la sintesi forse meglio fatta oggi dal Corriere dal Sole 24 ore, 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e per le pensioni di anzianità di cittadinanza, quelle a 780 Euro che pari sono, c'è un miliardo per la riforma dei centri per l'impiego e si sostiene che in tre mesi questo miliardo dovrebbe permettere di poter erogare questi 9 miliardi di Euro in maniera corretta. Ci sono 7 miliardi, e qui c'è un po' di polemica tra la Lega e il Movimento 5 Stelle perché sono inferiori a quello che si attendeva la Lega, cioè un miliardo in meno, per il superamento della legge Fornero e il superamento non è tanto quota 162 più 38 perché poi devi fare per forza 63 più 38, 64 più 38, quindi 38 è il parametro fondamentale, quindi 100, 101, 102, 103 e anche i 41 anni e mezzo non è ben chiaro se ci sono di anzianità contributiva per poter accedere alla pensione. Si parla di 400 barra 300 mila a seconda dei giornali di possibili pensionati che in questa maniera eviterebbero le forche caudine del Fornero che prevede come sapete una pensione a 66 anni più 7 mesi o 67 nel 2019, quindi 7 miliardi per far andare in pensione 400 mila persone, cioè noi abbiamo messo, noi contribuenti pagheremo 7 miliardi per far andare in pensione 300 mila persone e non farle rimanere sul loro posto di lavoro e loro sostengono perché lo sentito dire da Di Maio e Salvini che grazie a questi 7 miliardi ci saranno nuovi posti di lavoro corrispondenti a questi 300 mila, mi viene da dire ci è costato caro fare questi posti di lavoro, mettiamola così, 2 miliardi per la flat tax, sulla flat tax qui ci sono due interpretazioni, mi sembra quella del sole 24 ore e quella del Corriere di Repubblica non sono del tutto identiche perché ci sono due ipotesi, la prima è la flat tax fino a 65 mila euro, cioè portare il regime forfettario da 30 a 65 mila euro e con 15% tu paghi tutto, paghi Ires, eventuale IRAP che comunque i libri professionisti non pagano e anche IVA, quindi sostanzialmente oltre alle ritenute da conto il 20% che non ci sarà, non ci sarà l'IVA, non ci saranno i libri contabili e tutte quelle scricature, quindi una straordinaria opportunità di semplificazione. C'è una seconda ipotesi che questa flat tax vada anche dai 65 ai 100 mila euro con criteri diversi, ad esempio col pagamento dell'IVA, però con la liquida del 20%, staremo a vedere come verrà fatta soltanto con la manovra finanziaria che verrà presentata entro il 15 ottobre, 2 miliardi per la flat tax, 1 miliardo per le forze dell'ordine, per l'assunzione delle forze dell'ordine che è un'altra manovra molto voluta da Salvini, 1,5 miliardi per i truffati dalle banche. Questa è la componente. Sallusti oggi sul giornale prende a prestito la battuta fatta oggi da Salvini, da Di Maio soprattutto sul fatto che andranno in galera per sei anni, oggi lo ribadisce un'intervista anche la Castelli sulla Corriere della Sera o su Repubblica. Insomma, sei anni di galera per coloro che fanno i furbetti del reddito di cittadinanza e Sallusti sbeffeggia un po' questa dichiarazione dicendo che su 6 milioni e mezzo della platea delle persone che avrebbero diritto al reddito di cittadinanza, già mi immagino, non dico tanto, ma un 10% di loro che possono fare i furbetti, la metà di questi che devono essere processati e avvisati per quello che avrebbero fatto, insomma sarebbe una specie di delirio della giustizia italiana con 300 mila nuove indagini e possibili reati. 600 mila sono soltanto il 10% dei 6 milioni e mezzo che potrebbero godere di questo reddito di cittadinanza. Per il messaggero il reddito di cittadinanza, lo trovo soltanto sui quotidiani del gruppo Caltagirone, dovrebbe durare al massimo 18 mesi. Della pace fiscale, giusto Angelica, mi chiede la pace fiscale e secondo me lì siamo in grandissimo alto mare perché non si riesce a capire bene, anche qui c'è un contrasto tra Lega e Movimento 5 Stelle su qual è il perimetro al quale applicare. Panarari e Giordano entrano su un altro tema di questo reddito di cittadinanza, sul fatto che anche da me Di Maio ha detto che le spese che si possono fare con questa carta sociale non sono per tutti quanti beni e non sono accettati beni immorali. Panarari dice che si tratta davvero proprio stato etico oggi sulla stampa, è come non condividere la posizione del sociologo per alto di sinistra Panarari. Invece Giordano oggi ci spiega, soprattutto prendendo in giro i giornali, che prima i giornali chiedono maggior controllo sul reddito di cittadinanza e quando loro applicano maggior controllo al reddito di cittadinanza i giornali strillano allo stato etico. Però devo dire che io ho grande stima di Mario Giordano, però francamente forse non ha colto qual è la polemica sui controlli. I controlli non sono sul fatto che si vuole un controllo generico, ma sul fatto che siccome sono soldi miei o in deficit delle prossime generazioni, dare dei soldi a qualcun altro presuppone che qualcun altro se li meriti davvero perché si è in una situazione davvero di indigenza, non come li spende quel qualcun altro, perché è facile oggi, mi sembra che sia il feltrino sulla stampa, dice cosa facciamo, va bene l'acqua minerale gasata o devi prendere l'acqua del rubinetto? Vanno bene il tavernello o puoi prenderti soltanto il Don Perignon? Insomma è del tutto evidente che quando uno Stato decide cos'è morale o non morale spendere con i miei soldi è una scelta di campo, devo dire che non riesco a capire perché lo devo affidare a un terzo. Se mai sono io che con i miei soldi do una terza persona e dico come li spendi, insomma stiamo in una specie di follia burocratica orwegliana che pure Giordano nega. La manovra non c'era e oggi c'è, ma un'altra cosa che non c'era e oggi c'è è il commissario per il ponte e qui Belpietro sulla verità dice una cosa sacrosanta, dice ma insomma ce l'avate sotto gli occhi, era il sindaco di Genova, era dal primo giorno che potevamo avere questo commissario, ci avete messo 55 giorni, lì secondo un retroscena di alcuni giornali mi sembra del fatto, ci sarebbe stato il commissario proposto Gemme che dava due anni per costruirlo e Bucci che ne dava 18 mesi, insomma mi sembra veramente una cosa ridicola questa, cioè che sia stato fatto fuori Gemme perché proponeva più anni per fare un ponte, ovviamente non è il commissario che oggi decide quanto tempo ci vuole fare il ponte, comunque messo la mano sul fuoco che la promessa del governo che in un anno avrebbero ricostruito quel ponte è una gigantesca enorme minchiata. Della flat tax vi ho parlato, ultima questione diciamo fiscale e governativa è la questione delle tasse perché per finanziare questi 40 miliardi di cui 21 sono di maggiori spese attraverso riduzioni fiscali e sussidi, insomma si dovrebbe mettere una tassa alle banche di cui abbiamo parlato proprio ieri nella forma di maggiori costi non detraibili dai loro bilanci delle banche in termini di tassi di interesse e qui l'Abi strilla e dice chi tocca le banche blocca la ripresa, può anche essere funzionante questo tipo di slogan di Patuelli, secondo me è molto più interessante invece quello che sostiene qualcuno per quale motivo al mondo le banche italiane devono avere tassazioni così superiori a quelle straniere per le quali quelle straniere poi vengono qua e se le comprano visto la debolezza con cui verserà la situazione bancaria italiana. Alain de Benoit ve lo segnalo sulla verità, lo sapete io ho letto il libro, lo trovate la recensione proprio sul mio sito nicolaporro.it e le ipopulismi, oggi è lui che fa recensione a un suo collega sulla democrazia e l'egualitarismo nel senso che la democrazia è quella grande follia illuministica per la quale siamo tutti uguali, sostiene in questo pezzo molto bello De Benoit. Mauro Crippa, Maurizio Crippa, si occupa della Boschi e delle sue foto su Maxime, con la copertina, la non copertina, con la faccetta, con la smorfietta e dice ah quanto siete cattivi ad attaccare, che sessismo che c'è nei suoi confronti, c'è qualcosa che non quadra. E cita alcune frasi che sono comparse su internet in cui si dice imita, viene insultata tipo imiti la Belen, Belen, è certo che imita Belen, è quella imita Belen, non mi sembra un insulto. Se tu ti metti a fare le pose in copertina, imiti Belen, io sono anche disponibile a farlo, non ho nessun problema, se avessi la bellezza della Boschi forse farei anch'io l'imitatore, non so, di Gabriel Carco. Io non ci riesco perché non sono Gabriel Carco, ma non diciamo cazzate, se una si fa la copertina di un giornale come Maxime e si mette sotto le coperte, fa le pose e le faccette, che fa? Imita Babbo Natale o imita Belen? Insomma, adesso io la trovo una cosa straordinaria, adesso non possiamo neanche dire che imita Belen, Maurizio, dai, insomma, non ti dico che te la sei cercata, perché lui cita la Carfagna che adesso fa la suorina, dai poster che ha fatto per i camionisti adesso fa la sciura milanese, ma la Carfagna è un altro discorso, la Carfagna non si mette più a fare quelle robe là, l'ha fatte, fa finta di dimenticarselo, sembra una specie di sciura borghese, mentre non lo è, è un altro discorso, e lei no, lei consapevolmente si mette a fare le foto su un giornale come Maxime, e fa benissimo a farlo, per me è straordinario, ma non possiamo evitare che qualcuno su Twitter dice che imiti Belen, perché è esattamente quello che cerca di fare, come quando si mise quel vestito rosso col fratello sulla passerella di Venezia, sembrava un'attrice, non una politica, la politica non fa così, devo dire che poi il confine è molto labile, perché poi vedi Teresa May che fa il balletto per entrare al congresso dei repubblicani del partito conservatore inglese, allora dici, vabbè, è tutto un grande spettacolo se anche la May si mette a cantare, anche se i giornali italiani non hanno notato più che il balletto e il fatto che lei abbia cambiato la linea politica al partito dicendo chiudiamo l'austerity. Ultima cosa, straordinaria storia di cronaca, la signora A, perché così è stata definita dai giornali, che fa shopping da Harrods per 20 milioni di euro, la bloccano perché in Inghilterra, anche lì nel paese di libertà, se spendi 20 milioni in poche ore, qualcuno ti chiede come mai hai fatto, 35 carte di credito, l'aereo privato che l'aspettava, moglie di un banchiere di un paese non conosciuto e non rivelato, più che non conosciuto, c'è una legge in Inghilterra che si chiama Mac Mafia, come il film di Prime Amazon che forse qualcuno di voi ha visto, io certamente l'ho visto e mi sono divertito, per cui se la ricchezza è inspiegata, te bloccano e dicono come hai fatto a fare tutti questi soldi? Boh, insomma, problemi che noi non abbiamo. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento sul sito, c'è ancora il pezzo di Luca Telese, secondo me bellissimo, sulle macchine 3 euro e la patrimoniale sui poveri, le macchine diesel che verranno cancellate dalla faccia della terra, soprattutto quella italiana e quella patrimoniale sui più deboli. Questa zuppa condividetela se vi piace, sito nicolaporro.it e domani ci rivediamo. Ciao!